Ciao, bebere che non è facilissimo, mi sa che ci sbagliamo in tanti. Grazie Corina, io ti chiamo Corina, sei tu l'autrice di questo libro, un libro di favole. Ma come? La vita non è una favola e forse per quello c'è bisogno di scriverle le favole. Sì, questo è il primo mio libro che ho pubblicato con sottosopraedizioni in maggio quest'anno, l'ho presentato anche al Salone del Libro, che come si sa quest'anno è stata a Romania l'ospite. Ah è vero, perché tu sei di nazionalità romena. Sì, ho fatto doppie presentazioni l'11 maggio e poi ho fatto altre tre presentazioni, in tutto per quest'anno quattro, il 25 novembre avrò un'altra, sempre, no sempre, a Torino, con un'associazione italiana, Mondi Insieme. E' un libro di 15 fiabbi, come ho detto, tra cui quattro, sono ispirati dalla vita reale, tra cui due sono ispirati da personaggi famosi, Elena Ceaucescu e un omaggio a Michael Jackson, io essendo fan, ho pensato... E però c'è una bella differenza tra Michael Jackson e Elena Ceaucescu, no? Sì, perché da un punto sono rumena e ho pensato di scrivere qualcosa che mi toccava il cuore, e si chiama proprio cuore di vipera, perché io Elena Ceaucescu lo considero un cuore di vipera. C'è una vipera? Sì. La moglie, noi la conosciamo in Italia come, colei che era la moglie del dittatore, noi lo chiamiamo così, Ceaucescu. E' stato proprio così, un dittatore. Il resto però c'è una bella parte dedicata alle fiabe di fantasia. Sì, sono tutti viaggi di fantasia. Poi altre due sono dalla mia esperienza, diciamo, di vita, che io ho voluto fare nella fiaba, però sono cose reali. Guardate che bella la copertina, eh? Guardate che bella, cuore di vipera. La copertina, se la possiamo inquadrare dall'alto, è in realtà una doppia copertina. La inquadriamo per far... eccola qua. Vedete, se possiamo stringere un po', si vede come da un lato sia un albero, due case, e un signore qua appoggiato all'albero. Poi basta stringere e guardate che diventa un viso. Appena la casa editrice sotto sopra te l'ha proposto... Mi sono innamorata. E' bellissima, eh? Ho detto questa sì, non... E' bellissima questa copertina. Senti, ma le favole, hai preso ispirazione da alcuni fatti veri, ma anche dalla fantasia. Come ti viene l'ispirazione? Da quando eri bambina magari i tuoi familiari te le leggevano le fiabe? Allora, unico che mi raccontava, non leggeva mio padre. Forse da lui mi è venuto questo amore. Sono ancora migliori di quelle lette, eh? Sì, dove si dimenticava li metteva da sé, perché era un buon... Cioè, proprio le raccontava in un modo... Io sapevo che mente, diciamo, no? Però ridevo e dico, guarda papà sei proprio bravo. A raccontare le storie. Sì, dice qua mi sono dimenticato, l'ho inventato io. Però io anche se scriverò romanzi e tutto, però alla fine remarò sempre una favolista. vorrò finire la mia carriera sempre con le fiabe. Una favolista? Sì, io ho cuore. Che bel mestiere è quello della favolista. Mi piace, cioè proprio il mio genere. Tu sei in Italia da dieci anni. Sì. Come ti trovi? Bene. Bene. In realtà tu non fai ancora la favolista a tempo pieno, ma hai un lavoro... Meno male che hai un lavoro. Che cosa fai? Sono operaia, però è con un'agenzia interinale, oggi sei, domani no, quindi... E dobbiamo anche svelare che per organizzarci, vero Corina, abbiamo anche dovuto un po' inseguirci perché tu fai i turni e quindi giustamente non è che puoi venire alla mattina quando devi essere al lavoro in un giorno feriale. Ho chiesto un permesso. Riesci a trovare il tempo per scrivere, nonostante tutto? Poco. In questo... No, con i turni poco, perché prima avevo un altro lavoro e quindi bene o male potevo scrivere, adesso proprio pochissimo. Ma bolle qualcos'altro in pentola? Sì, sì, sto lavorando un romanzo che sarà qualcosa forte, diciamo, perché lo devo fare in lungo tempo, devo studiare molto. Qualcosa di forte? Sì.